Chi è Facundo González, il giovane difensore uruguaiano nelle mani della Juve? Nato a Montevideo nel 2003, di mestiere fai difensore centrale, con una sola piccola eccezione sulla corsia di sinistra. È mancino, 193 cm d'altezza, gambe molto lunghe, ricorda vagamente Lusio, calzettoni a tre quarti, gioca di fisico, cerca il contatto e ruba palla. Ha iniziato a giocare nell'Union Deportiva Vista Allegre dopo aver lasciato l'Uruguay per la Spagna a quattro anni. A nove è passato all'Espagnol, otto stagioni dopo ecco il Valencia, non ha mai esordito in prima squadra, 37 le sue presenze con la selezione B che gioca nel quarto livello del calcio spagnolo. Dopo un vittorioso mondiale under 20 proprio contro l'Italia, la Juventus ha deciso di puntare su di lui. Sarà un futuro campione? Lo scopriremo solo vivendo, intanto fateci sapere la vostra nei commenti.